Buona giornata e benvenuti sul mio canale. I miei clienti di solito mi chiedono come si fa a registrare una finestra in PVC o come si stacca un vetro di una finestra in PVC. Alcuni addirittura come si fa a togliere uno sfreso su una finestra in PVC. Allora ho deciso di fare tre tutorial e parlare di questi tre argomenti. La finestra si regola dalle cerniere e ora vedremo come. La regolazione viene effettuata dalle cerniere e ora vedremo in che modo. La regolazione più importante viene effettuata da qua. Vedete che ho inserito la chiave a brugola? Se giriamo così la vite si avvita e l'anta sale. Se invece la giriamo da questa parte la vite si svita e la finestra scende. Ecco questa è la regolazione più importante. Poi questa vite se vedete è un'altra vite. Girando verso il basso la vite avvitando si sposta la finestra verso il lato sinistro. Facendo così la vite si svita e la finestra si sposta verso il muro. La regolazione della cerniera in alto ve la farò vedere a finestra smoltata. Visto che la vite è abbastanza nascosta così almeno potrete vederla bene. La vite è questa. Vedete questa è la cerniera e la vite è qua in alto. Si inserisce la chiave a brugola da 4 e si svita. Se svitate la vite l'antina verrà verso di voi. Se la svitate al contrario si sposterà nell'altro senso. Grazie a tutti.